Da quanto tempo è che non avete un rapporto sessuale completo? Dunque... È la ragazza dei suoi sogni! Aiutatelo a ritrovarla! Si sono guardati! Da lontani! Era un misto tra la Madonna del Masaccio e Beleno. Faride è finita! Amore, ma io posso cambiare! Sei ottimista, mi piace! Questo è il momento di uscire allo scoperto, di dirlo a tutti! Io sono gay! Mario! Mario e Levi! Beh, vabbè, non è una storia bellissima! Ciao da Valeria! Dovete rispettare tre regole. Non fateli bagnare. Non fateli mangiare dopo la mezzanotte. E non esponeteli alla luce del sole. Di chi sto parlando? Ma dei gremlins! Esatto! Warner Brothers sta accelerando per portare a termine in tempi brevi il remake di questo cult, anni Ottanta. Non è ancora chiaro se il regista Joe Dante e il produttore Steven Spielberg saranno coinvolti in questo progetto. Tuttavia, senza Spielberg, come produttore esecutivo, sembra che il remake non si materializzerà e noi vi terremo aggiornati. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in uscita e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!